Sì, non lo senti mai? Eh, non lo senti mai. No, più? Brava! Bastaccio, dai! Ci deve essere stata assenziare le tracce... ...no! ...perai, cerca di un pezzi di metri e se sta... ...lo gavano a centavo! Ho! Ho! ...non si giuderebbe... ...lo rimane... Ho! 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 Pianco spalto! Pianco spalto! Pianco spalto! Pianco spalto! Blocco! Allora devo... Un po' e poi in fine un pescino! Uno! Due! Ho! Guardiamo a destra! Lo sguardo sotto la metà! Strammate! Un po' Prima una destra! Strammate! Due! Ho! E cadete più bene! Che sia cosa dirà eh! E poi si trova! Ho! Qui! Guardiamo a destra! A sinistra! Lo sguardo è fondamentale! Lo sguardo a sinistra! Guarda a sinistra! Già! Adesso! 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 Il posto! Lavoro! Ho! 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 Prima di impostare, sposta il peso! Posta l'ho preso! Sposto! Imposto! Tiro su! guardiamo in direzione giro andiamo avanza ora destra avanti destra avanti destra avanti ho andate a destra guardate 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 guardate